vediamo adesso come funziona steller stelle è un'applicazione per dispositivi mobili utile per realizzare dello storytelling questa applicazione potrebbe essere usata sia alle scuole medie che alle scuole superiori ma la sua semplicità di utilizzo in realtà lo rende uno strumento utile anche per gli ultimi anni della scuola primaria vediamo però adesso come funziona come prima cosa dovete scaricarla dal vostro play store e questa che vedete al centro del display del mio telefonino è l'icona di steller ci clicco sopra per avviare l'applicazione nella home page troverete inizialmente alcuni autori che avete la possibilità di seguire cliccando sul pulsante segui oppure se cliccate in alto su explore avete la possibilità di vedere storie realizzate da altri mentre per realizzare le nostre storie sarà sufficiente cliccare su questo segno più in basso al centro bene a questo punto possiamo sia aggiungere una pagina di testo aggiungere delle foto che abbiamo precedentemente salvato nella galleria del nostro telefonino oppure utilizzare la nostra fotocamera sia per registrare dei video sia per scattare delle foto sul momento quindi molto utile se vogliamo documentare in diretta per esempio un viaggio ma adesso proviamo a utilizzare alcune foto che sono già state salvate per vedere le funzionalità principali di questa applicazione per scegliere le nostre foto ci basterà cliccarci sopra per selezionarle una volta selezionate clicchiamo su importa bene le foto sono pronte per essere modificate quindi creare la nostra presentazione ci dobbiamo cliccare una per una per modificarle quindi aggiungere i nostri testi e i nostri layout allora possiamo intanto aggiungere per esempio la località se infatti io clicco qua in basso dove c'è scritto add a location ho la possibilità di inserire la mia posizione cerco qua in alto per esempio la mia città quindi la seleziono cliccando sulla spunta in alto a destra come vedete adesso la località compare nell'immagine posso anche aggiungere una breve di giudascalia qua in basso per esempio al grero bellezza di sardegna clicco quindi su fine ma posso ovviamente aggiungere i miei testi i testi per la mia presentazione cliccando qua in basso a destra sull'icona dei testi inserisco quindi in questo caso un testo di prova posso poi scegliere lo stile del mio testo posso scegliere anche la direzione è sempre qua in alto ho la possibilità anche di scegliere il carattere quindi posso scegliere un carattere di mio gradimento posso anche scegliere il colore una volta che ho inserito le mie modifiche clicco sempre qua in alto a destra sulla spunta per confermare posso poi facilmente spostare il mio testo in qualsiasi parte della fotografia se clicco qua invece su questa lampadina in basso a destra ho la possibilità di aggiungere delle note o dei suggerimenti o dei consigli posso poi ancora inserire per esempio un layout quindi clicco qua in basso a sinistra sull'icona del layout modello che più mi piace che posso filtrare anche per categoria abbiamo classico noir scrapbook film notebook abbiamo diverse opzioni a nostra disposizione proviamo qui con pride scegliamo i modelli quindi clicchiamo sempre in alto a destra su questa spunta per selezionare questo lavoro possiamo farlo per tutte le immagini che abbiamo aggiunto tra possiamo poi aggiungere anche una colonna sonora alla nostra presentazione cliccando qua in alto a sinistra sull'icona dell'audio anche in questo caso possiamo scegliere il nostro audio filtrandolo per categoria andiamo per esempio a scegliere ambient possiamo ascoltare un anteprima degli audio se l'audio è di nostro gradimento possiamo sia salvarlo tra i nostri preferiti cliccando sul cuoricino oppure cliccare seleziona e quindi spuntare sempre in alto a destra per inserirlo nella nostra presentazione bene proviamo a vedere un anteprima di quanto abbiamo creato cliccando in alto a destra sull'icona dell'anteprima come vedete in pochi secondi abbiamo aggiunto testi audio e modelli di nostro piacimento e lo abbiamo fatto con delle foto che avevo precedentemente salvato ma è molto interessante anche la possibilità di realizzare le nostre storie inserendo anche dei video che abbiamo registrato con la nostra videocamera quindi un'applicazione sicuramente utile per documentare per documentare esperienze ma soprattutto un'applicazione molto molto semplice da utilizzare quindi accessibile a tutti e soprattutto gratuita una volta che abbiamo creato le nostre storie le possiamo facilmente salvare oppure le possiamo pubblicare cliccando qua in alto a destra su post una volta pubblicate le nostre storie potranno essere commentate condivise e potranno anche essere espressi degli apprezzamenti ecco quindi che l'attività in classe non potrebbe non potrebbe anche non fermarsi semplicemente alla pubblicazione della nostra storia ma si potrebbero realizzare delle interessanti attività di educazione ai nuovi media dando per esempio delle precise consegne relative ai commenti che i ragazzi potrebbero inserire nei vari post o per commentare le varie immagini e video della nostra presentazione grazie a tutti